Piullelli, piullelli Bene, eccoci qui, nel cuore delle Alpi Svizzere Quale missione ti hanno affidato questa volta? Non ne ho la po' qualità idea Il capo mi ha detto che mi avrebbe raggiunto qui Intanto potremmo fare delle passeggiate E' proprio quello che ci vuole Su, andiamo Si, lo sa, avevamo ragione noi, boss Artiglio Gadget è appena sceso da quel treno Ti sbagli, non avevamo Avevo ragione Vabbè, certo, come vuole lei, signore Ora torna il tuo lavoro E non perderlo mai di vista Dunque vediamo, corda, scarpe, piccone, zaino in spalla Non sapevo ci volesse tutta questa roba per fare un'arrampicata Ed è tutta indispensabile Non bisogna mai sottovalutare la montagna Come prima volta non ce la siamo cavata male, vero? Wow, la Svizzera è davvero bellissima Bene, è ora di mettersi le racchette da neve Dici sul serio, non avrai intenzione di scalare quello Ma certo, sono qui apposta Forse tu non lo sai Ma ricorda, tuo zio è un vero campione Ascolta, zio Gadget, ormai la neve si sta sciogliendo Calma, calma, non preoccuparti Tu è bravo, rimanete qui Sì, io vado lassù e torno in men che non si dica La miseria è divertente Oh no, lo sapevo una slavina E potrei anche battere il re Cap, 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 Gadget gambe Caspiterina sta aumentando, dobbiamo salvarlo Bravo, aiutami Dobbiamo tenerla ben tesa Oh no, è salvo, ma sta pezzolando nel vuoto Per la miseria, quella fune mi ha salvato la vita Oh, Pop Gadget impermeabile Meno male, eccolo Oh, sta volando senza controllo Dobbiamo cercare aiuto Ho inventato un nuovo modo per scalare le montagne Avrei dovuto pensarci prima Butterò via un po' di zavorra Così raggiungerò la cima Non ho il coraggio di guardare Meno male, soccorso alpino Commissario Quimby Ma com'è arrivato fin questo? Lasci perdere Questi sono i suoi ordini, Gadget Il MED vuole rubare le riserve in oro della Svizzera La sua missione è proteggerle Questo messaggio si autodistruggerà Non abbia paura, capo L'ispettore Gadget è già a lavoro Ehi, zio Gadget, va tutto bene? Pronto, boss Artiglio Gadget e Quimby hanno appena avuto un contatto segreto in cima alla montagna Quel Gadget è uno sciatore davvero spericolato Fa silenzio Gadget non è nessuno, hai capito? Ma, 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 ma doveva vederlo Solo basta Vieni, vieni ad occhio Fino a rapina avvenuta Chiaro? Mi dica, boss Artiglio Salve, fabbricante di Gucu Allora è tutto pronto? Certo, io e il suo uomo saremmo già usciti dalla banca entro un'ora Bene, procedete Presto, satanasso Molto presto Tutto quel loro sarà mio Se questa banca non è a prova di mad come dovrebbe Niente paura ci penserà l'ispettore Gadget Wow, sembra inespugnabile Lei è l'ispettore Gadget, immagino Al suo servizio, signor sindaco La camera blindata ha una serratura a tempo Dovrebbe aprirsi fra qualche minuto Oh, per la miseria, mi sa che mi sia rotto l'orologio su quella montagna Guardi, il nostro oro è sparito Le mie congratulazioni, orologiaio Ha fatto un ottimo lavoro La ringrazio, boss Artiglio L'oro è già da tempo in fase di lavorazione Allora liberatemi di Gadget L'ispettore Gadget, che incarico fantastico Ci penso io, boss Artiglio Ci penso io Grazie Rubato fino all'ultimo grammo Povero me, non posso crederci Questo cavo doveva essere impenetrabile Ma come? Niente paura L'ispettore Gadget risolverà il mistero, amico mio E recupererà il suo oro Crede davvero di riuscirci? Oh, sono nelle sue mani Ascoltami bravo, tu tieni d'occhio lo zio Gadget Io nel frattempo do un'occhiatina qui in giro Dunque vediamo Se il timer è stato manomesso Con questo si dovrebbe vedere E' proprio come pensavo Lo sapevo Ma nessuno degli uomini di Artiglio E' in grado di farlo Quindi deve aver usato uno specialista Da dove cominciare? Oh, guarda laggiù Si festeggia qualcosa Non smettete per causa mia Bene, noi non abbiamo tempo per le distrazioni Bravo Ah, dunque vediamo Ah, è vero Prima di tutto devo portare il mio orologio a riparare Ah, ma dove? Oh Ma tu guarda il caso Una fabbrica di orologi Orologiario è ancora lì Elimini gadget Sì, 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 subito boss Si fidi pure di me Ma prima devo mettere appunto la mia arma Un bello orologio nuovo per gadget Oh, e cosa hai in grado di fare? Vi ho inserito un piccolo meccanismo Che allo scoccare di ogni ora Anietterà uno per uno i suoi marchighegni Sei molto, molto ingegnoso Ci siamo, ecco il nostro gadget Permesso, ce ne sono? Ya, 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 ma è in libera il gadget Che cosa posso fare per... Lei mi conosce Ecco, ya, 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 certo, chi non la conosce? Ah, sì, però Ya, 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 vede qui in Svizzera Siamo tutti grandi ammiratori dai grandi ispettori gadget Specialmente io, dove credermi Mi farebbe l'onore di un suo autografo Sicuro, ecco qui con me la mia gadget Lo sapevo, pronta a qualsiasi avvenienza Ispettore, non ho parole per ringraziarla Però anch'io ho un pensierino per lei Un orologio? Sì, e vi assicuro che è un orologio molto speciale Che simpatico vecchietto Ma ora devo occuparmi dell'oro Ok, bravo Tu aspetta più un secondo, mentre io Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh,oh! Posso essere di aiuto? Cosa? Oh? Oh, grazie, ecco sto solo aspettando la persona Oh, ok, d'accordo Non c'è abbastanza oro qui dentro Visto, bravo, l'impermeabile è tornato come nuovo E ora pensiamo alla nostra missione Li tremiono due minuti, e come vuole il tempo Accidenti, un altro buco nell'acqua Non troverò mai l'oro di questo passo Sono le tre in punto, chissà cosa stara facendo lo zio gadget Oh, salve, bravo Credo ci sia qualcosa che non va ai miei gadget Bene, questa è l'ultima fabbrica di orologi in città Se l'oro non è nemmeno qui, dovrò ricominciare tutto da capo Allora, come sta andando ? Fra poco l'oro sarà pronto per essere immagazzinato, signore Eccellente Caspiterina, forse ci siamo l'oro nascosto qui Ma che strano, non c'è nessuno La nipota di gadget, dov'è quell'idiota dell'orologio ? Orologio ? Orologio ? Orologio ? Ya ya, eccomi boss Artiglio Lei, incompetente idiota C'è una spia che sta curiosando nella fabbrica La elimini subito, non la vede ? Si si boss, immediatamente signore Ecco come fanno Lo stanno fondendo E poi fabbricano parti di qualche macchinato Devo avvertire lo zio Bene, buonasera signorina spiona Legala a quella sedia per adesso Ho inventato qualcosa di molto speciale Proprio per un'occasione come questa Giù, non fare capricci Forza, andiamo, bravo, non abbiamo tempo per giocare Ti ricordo che siamo in missione speciale Ah, d'accordo A dire il vero da quassù potrei avere il giusto colpo d'occhio Per trovare il nascondiglio dell'oro rubato Mi scusi signorina, saprebbe dirmi che ore sono ? Eh si, certo, precisamente sono le quattro in punta Grazie tante Lo sai bravo, credo proprio che i miei gadget abbiano bisogno di una revisione Chissà, forse quell'orologiaio può darmi una mano Pronto posso al tiro ? Cosa c'è ? L'ispettore gadget è ancora vivo Dovete eliminarlo, chiaro ? E purtroppo non è tutto Sta andando dritto dritto dall'orologiaio Orologiaio, risponda, orologiaio Resto da questa parte Tanto non la farà Franca Mio zio Ga Gli ingranaggi Ecco che cosa ne fanno dell'oro Proprio cosi, piccola spiona Lo tengo qui per conto di un amico Carino, non è vero ? Quando l'orologiaio le cinque batterà Indovino un po' chi morirà Orologiaio Ya, ya, ma Santiglio Gaggen è vivo Non può essere, no Se vuole saperlo Sta venendo proprio da lei Lui qui, oh mamma, no Lo elimini, o sarò io ad eliminare lei Sì signore, sì La gente è così irresponsabile, vero satanassa Un edificio piuttosto imponente, vero ? Spero che l'orologiaio abbia un po' di tempo da dedicarmi Posso continuare ad indagare con i miei gadget che non funzionano Vieni che te li aggiusto io i tuoi marchigegni Oh, e lei, ispettore gadget ? Ciao, salve di nuovo Che cosa posso fare per lei ? Sembra esserci qualcosa che non va nei miei gadget Mi chiedevo se per caso Se io potevo aggiustarli, giusto ? Ne sarei molto, molto onorato io Ecco, eh sì, bene, io Ma per ego, mi seguo Vengo pure nel mio laboratorio speciale Dunque mi dica, qual'è il suo problema ? Non saprei esattamente Tutti i miei gadget sembrano come impazziti Ma che cosa strana Sta comodo, Herr Gadget ? Oh sì, sto benissimo qui Bene, mi raccomando adesso si rilassi E io lo aggiustarò in un batter d'occhio E' tutto pronto ? Certo, tutto pronto signor orologiaio Osservarò la sua guarigione dalla sala controllo Spero che questo controllo non richieda troppo tempo Io devo ancora ritrovare quell'oro Maudito Osservare Cosa c'e, bravo ? Ah, ok, ma coprila quando avrai finito Aiuto, aiuto ! Qualcuno mi aiuti ! Bravo ! Oh, grazie al cielo Sbrigati, bravo ! Oh, no, ancora ! Sei dove lo zio cagge ? Oh, no ! Oh, oh, oh ... Oh, oh, oh ... Oh, oh, oh ! Oh ! Oh ! It's nephew voyeur ! Chi è sei tu, Penny ? Oh no, il mio magnifico reloce No Se l'ha stato svegliato Bene, vediamo come ve la cavate nella stanza del cucù Bravo ! Ma che cosa ? Questi ingranaggi sono d'oro zecchino Salve Gadget, congratulazioni vecchio mio Non so come abbia fatto, ma l'ha ritrovato Lei è un vero genio, ce l'ha fatta un'altra volta Ecco io Si, certamente Io la dichiaro in arresto, signor orologiaio Davvero un bel lavoro, zio Gadget Oh no, ti sei preso il raffreddore Che cos'è quella roba, zio Gadget ? Medicina, appositamente per bravo Quella che gli ha prescritto il suo veterinario Bene, perché non si devono prendere le medicine Senza prima consultare il medico Devono essere i genitori o meglio il dottore Che decidono la cura e soprattutto le dosi Le medicine fanno bene solo se usate con giudizio Lo sai, Penny ? C'è qualcosa di meglio per il raffreddore delle medicine E che cos'è, zio Gadget ? Ma molto semplice Cercare di non prenderselo